10 5 4 3 2 1 vai destra 4 meno tieni in sinistra 3 200 al cartello sinistra 2 gira 2 gira in dentro sinistra 6 palla scorre in destra 3 tieni in sinistra 3 meno subito destra 5 subito sinistra 6 50 destra 5 30 giù eh alla zebra ritarda destra 3 50 sinistri a fine muro sinistra 4 20 è un 4 è 20 sinistra 6 in destra 4 tieni subito sinistra 3 più in destra 5 50 50 sinistri destra 3 meno 100 dentro sinistra 6 20 al cartello sinistra 5 chiude 4 20 al muro destra 3 tieni in sinistra 2 50 50 destra 4 più 50 a vista al cartello destra 6 30 destra 4 tieni bene 20 sinistra 1 subito destra 1 apre 4 70 attenzione alla casa destra 3 meno chiude 3 meno chiude 200 sinistra 5 no in destra 5 lunga alla pianta chiude 4 alla pianta chiude 4 in sinistra 6 lunga lunga 20 attenzione al muro sinistra 2 arriva qui il sinistra 2 150 sinistra 5 alla steccionata chiude 3 30 destra 6 sconnessa in uscita arriva al destra 6 sconnessa in uscita 150 sinistri allo spiazzo destra 3 arriva il destra 3 150 sinistri stai a destra Scicani ingresso a destra 50 meglio di 5 allo stop sinistra 3 scompone 30 destra 3 più 50 ai cartelli sinistra 4 lunga tieni 4 lunga tieni 20 allo specchio destra 3 più lunga tieni arriva il 3 più lunga tieni in sinistra 4 chiude 30 destra 6 tieni subito sinistra 4 meno 50 destra 4 meno apre 5 30 sinistra 6 70 è un 6 è 70 giù 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 sinistra 4 più 50 sinistra 4 meno lunga 50 rail destra 3 apre 5 4 meno 50 qui 3 apre 5 50 destra 3 arriva qui il destra 3 30 alle zebre ritarda sinistra 2 lunga gira in in destra 4 più in sinistra 4 stai dentro 100 sinistra 5 lunga chiude 4 in destra 6 30 alle zebre destra 1 lunga gira in sinistra 6 30 destra 6 50 al rail destra 4 in al cartello sinistra 5 20 destra 5 in attenzione sinistra 5 lunga chiude 4 tieni subito destra 2 più 30 stai a destra sinistra 6 80 a vista alle gomme sinistra 6 50 sinistra 6 eh 50 sinistra 5 50 frena cicali ingresso a sinistra in a rovescio destra 6 20 destra 5 meno 5 concentrato 50 destra 2 in sinistra 4 20 sinistra 5 lunga tieni subito attenzione alla torretta destra 3 meno lunga apre in sinistra 6 70 70 alla zebra sinistra 2 30 sinistra 2 chiude 50 destra 4 70 sinistra 5 tieni in destra 4 meno 70 fine destra 4 meno 12 secondi meglio bravo 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 mi sono divertito no ti andavano bene? perfetto e ogni tanto giù bisognava te lo dicessi un po' è farnocchia se no che mi ha insegnato bravo bravo ora si incomincia a avere un bel passettino cominci a fidarmi te ne sono accorto subito alla alla prima primo si non ti ho detto niente ho detto no lo deve fare no ma siamo entrati anche sicuri se era caldi non siamo stati fermi un'ora non possiamo ma vuol dire all'intermedio si era meglio di 5 l'ha sentito quando te l'ho detto si aspetta eh la ventola l'avevi attaccata? no ma è possibile 5.48 e 6 la ventola l'avevi attaccata? no ma vuol dire la ventola l'avevi attaccata? no ma vuol dire non ma vuol dire no ma vuol dire non ma vuol dire la ventola l'avevi attaccata? Grazie a tutti.